la vita un'immagine sua si nasce si sale sul ponte della vita a mano che si cresce e poi quando il timer arriva al momento si muore i due elementi principali di una vita che sembra invece si inizia e si finisce perché allora non dare ad essa quel valore aggiunto che dentro di noi la renderebbe ricca e comprensibile